È curioso che in Italia si diffidi dal servizio sanitario, voglio dire, ma è ovvio che sia così, insomma è uno stato sociale il nostro e meriterebbe un'attenzione sanitaria migliore. Spesso c'è, molto spesso non c'è. Questa iniziativa, voluta dal Polignico Gemelli a Roma e poi sposata qui a Napoli da molti ospedali locali, permette di scavallare quelli che sono gli ostacoli, le barriere architettoniche che ci permetterebbero di poter accedere alla sanità con una giornata a due giorni particolari nei quali si può soffrire gratuitamente di tutti quei servizi preventivi che uno ritiene necessari per se stesso. La gente, se vuole, può venire a vedere dei malconci, malcapitati che giocano a tennis con altri che sanno giocare, tipo Diego Nargiso, eccetera, e passa una giornata con a disposizione un po' di serenità e un po' di prevenzione. Se sei raddoppiato, sei raddoppiato pura fatica mia, veni qua tutte e tante volte per giocare a tennis. Tutto si raddoppia, tranne quello che vorrei si raddoppiasse.